Ecco i dati dell'osservatorio regionale per il turismo, il consuntivo, che è stato presentato alla Fiera Internazionale del Turismo di Rimini. Taranto, tra le province pugliesi, questo è il dato davvero allarmante, è il fanalino di coda, la cenerentola. La Puglia fa registrare una crescita nell'ambito del turismo internazionale di un più 14%, Taranto sembra non far parte della Puglia, mentre la Puglia dal punto di vista turistico cresce, ha un lancio davvero ragguardevole, entusiasmante, Taranto precipita sempre più. Peggio del 2022. Ma andiamo ai dati. Salento, 33% di presenze, 28% di arrivi. Foggia, 28% di presenze, 22% di arrivi. Bari, 26% di presenze. Taranto, appena il 7% di presenze e di arrivi. Come detto, abbiamo fatto, come città, peggio del 2022. Di qua abbiamo, perché siamo tarantini, la verità è che ha fatto peggio del 2022 l'amministrazione targata Rinaldo Melucci. Andiamo ai pernottamenti. 4 milioni e 100 Lecce, 3 milioni e mezzo Foggia, 2 milioni Bari, Taranto appena 920 mila. E allora, ditemi voi di grazia, quante puttanate ha raccontato, ha sparato puttanate politiche il sindaco Melucci e il suo vice sindaco Manzulli. Parlavano di oltre un milione di turisti presenti a Taranto. Ancora, gli eventi internazionali, le crociere non hanno portato nulla a Taranto, ma non perché le crociere o gli eventi internazionali non abbiano importanza, anzi sono fondamentali, ma quando tu amministrazione comunale non sai fare marketing territoriale, non sai promuovere il turismo, non sai compiere un'azione di accoglienza nei confronti dei turisti, non sai rendere attrattiva l'immagine di Taranto e a livello nazionale e a livello internazionale. Quando tu amministrazione sei solo capace di sperperare 7 milioni e mezzo di Euro per il sale GP, quando tu amministrazione comunale ci hai chiusi tutti gli ipogei, come vuoi promuovere il turismo? Quando tu amministrazione comunale hai chiuso, hai non funzionante da mesi e mesi chiuso appunto l'Infopoint presente in Piazza Garibali, davanti al Martà, il principale e il più importante museo archeologico per quanto riguarda la Magna Grecia, bene, tu ti permette il lusso di tenere chiusa da mesi questa struttura, questo Infopoint e poi vi meravigliate che il turismo a Taranto non cresce, ma di cosa stiamo parlando? Ma l'azione di marketing del comune di Taranto, questa azione di marketing territoriale tanto vantata da Manzulli, dove è andata a finire caro Manzulli? La tua scienza dove è andata a finire? Questa è la verità signori cari, allora un'amministrazione dovrebbe avere soltanto il pudore, la decenza di dimettersi, il sindaco dovrebbe andarsene da Taranto, tutti i guasti, ma come si può rendere attrattiva una città che è ridotta ad un immondezzaio pubblico? Tra sacchetti dei rifiuti sparsi ovunque che soffocano i cittadini e i turisti, strade che sembrano percorsi bellici, ma come si può? E poi unita a questa carenza proprio strutturale, la incapacità, dicevo, di fare un'azione di promozione turistica. Siamo la Cenerentola di Puglia, sembra che facciamo parte di un'altra regione, di un altro mondo. Questa è Taranto, purtroppo amministrata da Rinaldo Melucci. Pensateci cittadini, qualcuno può pensare che io ce l'abbia con lui, ma i dati, caro Melucci, parlano chiaro, sono inequivocabili. Questi dati sono stati proprio confermati da un'attività di studio, di indagine fatta da Confcommercio Taranto, dal suo direttore Mancino. Confcommercio ha indagato presso le varie strutture ricettive tarantine e purtroppo la conferma è stata atroce. Proprio questi dati, questi sono i dati che le strutture ricettive hanno confermato. Quindi non c'è nessun accanimento nei confronti dell'amministrazione Melucci. Sono i numeri e la matematica, caro Melucci, caro Manzulli, fino a prova contraria, non è ancora un'opinione. 7% di presenze e di arrivi. Un fallimento, un fallimento. Sgonfiatevi un po', caro Melucci e caro Manzulli, visto che vi siete gonfiati come pavoni. Tu, Manzulli, parlavi di sentiment, che ispirerebbe questo sentimento, questa attrattiva, che ispirerebbe Taranto. Quale? Le bellezze di Taranto ispirano, è la vostra disamministrazione. Passatemi questo neologismo che fa precipitare Taranto. Vergognatevi e dimettetevi.